Grazie, buonasera, benvenuti. Inizierei immediatamente raccontandovi che cosa vorrei mostrarvi e introdurvi questa sera. Sono tre progetti abbastanza recenti, datati 2011, 2013 e 2015. Fanno parte di aree di interesse e di indagine che mi coinvolgono. Vanno a incunearsi in tre domande, secondo me, quasi escatologiche, imprescindibili dell'azione attuale degli artisti o dei curatori. Il primo progetto è un progetto del 2011, realizzato su committenza del Museo del Prado, e che dal mio punto di vista mi permetteva di dare una risposta parziale su una questione che riguarda gli operatori del settore culturale oggi. E cioè fondamentalmente a chi ci stiamo rivolgendo. Qual è il ruolo dello spettatore in questo momento? Il Museo del Prado, come molti musei classici negli ultimi decenni, si sono rivolti all'arte contemporanea, utilizzando le ricerche e le strategie degli artisti contemporanei come delle pietre di paragone rispetto a quella che è la tradizione dell'arte classica. Quando vengo commissionato dal Museo del Prado, la richiesta è di lavorare sugli spazi della fabbrica del Prado e chiaramente sulle opere contenute. Come spesso mi capita, ma credo che capita in generale, gli artisti, senza nemmeno avvertire, si sottraggono alle richieste dei direttori e iniziano a performare quella committenza e quel site specific secondo un'anomalia naturalmente che è quella degli artisti. Avevo da poco letto una autobiografia di Alberto Giacometti ed ero rimasto colpito da una frase nella quale Giacometti aveva detto quando ero un giovane artista e mi recavo al Louvre ed ero emozionato dai capolavori dell'arte, adesso da artista maturo ritorno al Louvre e mi interessano solo le persone, mi emoziona soltanto il pubblico. Quando arriva la committenza del Prado ero andato a fare una mia ricerca per capire qual era l'origine dei musei, quali erano stati i primi musei più o meno nel 1750 e che cosa avevano collezionato. Mi ero reso conto di un dato che mi lasciava piuttosto perplesso, e che cioè nelle collezioni museali che potevano andare dall'opera picta alla numismatica c'era un dato che era costantemente assente, il pubblico. E' come se queste strutture preposte alla organizzazione, consegna agli altri, a noi, ai pubblici, da due secoli e passa questa parte del grande patrimonio storico, artistico, culturale, si fossero dimenticati di archiviare i sogni, le abitudini, le reazioni, le riflessioni del pubblico. L'occasione del Prado poteva diventare un pretesto interessante per costruire un atlante degli spettatori. Ed allora io ho proposto a Zugazza, al direttore, di sostenere l'acquisizione di un archivio che fosse la prima carta d'identità dello spettatore contemporaneo. Nel settembre del 2011, per una settimana con una troupe, ci siamo impossessati di alcune delle sale del Prado ed abbiamo fondamentalmente filmato per sette notti consecutive il pubblico. Abbiamo fermato le persone che incontravamo nelle sale, abbiamo chiesto loro di prestarsi a diventare il primo blocco di visitatori catalogati di un museo. Abbiamo costruito questo atlante di film, sono alla fine circa 700 film in alta definizione, ritratti in scala 1 a 1 di visitatori, perfettamente archiviati, certificati. Ciascun visitatore è stato chiesto di accettare, firmare una liberatoria, lasciare alcuni dati. Ci siamo posti il problema di come montare questi film. Abbiamo utilizzato come procedimento quello delle figurine panini dell'album dei calciatori, per cui ci siamo stampati delle micro riproduzioni degli stil di queste centinaia di film e su dei muri abbiamo iniziato ad allestire queste immagini come fossero la sequenza filmica, cioè cercando di dare un ordine a questo materiale. Io ho scelto come spazio per l'installazione su cinque schermi un corridoio molto bello adiacente alla sala della pittura italiana, soprattutto perché mi sembrava pertinente, poi mi faceva piacere poter dire di essere vicino ad Antonio da Messina e Guidoreni. Questo spazio era una specie di diaframma fra l'interno del museo e il paseo del Prado, perché mi interessava essere vicino alla città, alla strada. Abbiamo deciso di farci aiutare dei programmatori, i quali hanno progettato un software che imita il comportamento del cervello delle slot machine. Questi centinaia e centinaia di film, tutti uguali fra di loro, per formato, peso, lunghezza, duravano ciascuno un minuto, sono diventati semplicemente un numero generico all'interno di questo software, che quindi sui cinque schermi dell'installazione il software li richiamava in modo random, esattamente come capita di incontrare le persone occasionali con cui condividiamo quella sala piuttosto che un altro spazio. Di tanto in tanto però questo software generava un jackpot. All'improvviso il software riconosceva delle similitudini, cinque borse rosse, cinque pettinature bionde, cinque gruppi familiari, mandava improvvisamente sullo schermo delle familiarità, quasi come se fossero dei gruppi da me allestiti. Il progetto includeva dei ritratti filmici in primo piano, di visitatori occasionali, e contemporaneamente di figure intere. Alle spalle di queste figure si riconoscono Velázquez, Goya, Mantegna. Siccome la committenza originaria era quella di interpretare la fabbrica e il suo patrimonio artistico, io di fatto l'ho fatto. Mi sono scelto quegli angoli, quegli elementi, quei frammenti di storia dell'arte collezionata dal Prado che io ritenevo indispensabili, ma li ho usati come sfondo, sono sfocati, sono sensibili e percepibili, ma non centrali rispetto invece al ruolo che la figura del pubblico occupa. Non abbiamo chiesto niente al pubblico, se non quella di non sorridere davanti alla camera. Tornando alla cultura della tradizione della ritrattistica fotografica dell'Ottocento, in cui ogni ritratto era una testimonianza, ma anche come accade nella ritrattistica, ad esempio, di Velázquez, il gesto, la postura deve essere naturale. È il modo in cui le persone sono entrate nel museo. Fra cento anni, quando il Prado riallestirà questo progetto, questo diventerà un progetto storico. Queste figure avranno subito un processo di consunzione, di storicizzazione, pari a quello dei costumi, delle abitudini, della gestualità, della posturalità delle figure rappresentate nell'iconologia della storia della pittura o quanto altro. Questo accumulo da verticale dentro il Prado sta diventando orizzontale, per cui sta diventando un progetto seriale. Questi sono luoghi dove si produce arte, ma l'arte deve avere un costante dialogo con quelle che sono le istanze civili dell'istituzione e del territorio al quale appartiene. Quest'ultima immagine, in cui restano questi cinque nuclei familiari, è uno di questi jackpot riconosciuti dal software di programmazione. I video erano poggiati per terra, in delle nicchie, le persone avevano i piedi per terra e c'era una sorta di affronto-confronto con queste figure. Un'altra considerazione che volevo fare è questa limitrofia tra l'immagine fissa e l'immagine in movimento. Questi sono dei film, ma sono quasi delle fotografie animate. L'installazione era in un corridoio perché di giorno era dentro il museo. Alle 20, quando il Prado chiude, si aprivano le imposte e dal Paseo del Prado era possibile vedere l'installazione. Quindi gli schermi erano messi di fronte alle grandi finestre. A me interessava produrre un'opera che facesse esplodere la struttura classica del museo. Il mio problema è che tutto quello che è arte, quando entra dentro certi musei, si invalida, si disinnesca, perde il suo potere di, letteralmente, dinamitardo. Ecco perché ho insistito molto per far sì che quest'opera di giorno appartenesse al Prado e di notte alla città. E quindi ci fosse questa capacità di trasformare le mura solide del museo classico in una specie di membrana, di diaframma che la luce dei film riuscisse a permeare. Passo rapidamente al secondo progetto. È un progetto del 2013. Anche questo nasce da una committenza. La Certosa di Capri conserva le opere di un famoso pittore neoromantico tedesco, William Diefenbach, che vive la parte finale della sua vita a Capri. Nel 2013 è il centenario della sua morte e vengo invitato a produrre un lavoro da affiancare alle opere di Diefenbach. Aveva sempre rappresentato Capri e il Mediterraneo come un luogo violento, un luogo eruttivo, che è la sua origine naturale. Come una storia nefasta dove si mandavano a morire gli imperatori romani. Un luogo storico di suicidi di intellettuali. Io sono convinto che lui fosse tecnicamente influenzato dal codice fotografico. In questa visione da tempi lunghi di mare lacustre, come se fosse una lunga esposizione notturna, ho iniziato a cercare di capire che cosa lui volesse raccontare con questa emersione di queste rocce primordiali in questo paesaggio apparentemente acquietato ma che nella sua paludosità mi sembrava più riportarmi ai romanzi di Lovecraft che è un luogo da idillio mediterraneo. E ho pensato, nella mia fantasia, che io e Diffenbach ci eravamo trovati a centonei di distanza dalla stessa situazione. Lui, al termine dei grandi imperi e all'inizio degli stati nazioni, sospeso in questo limbo, e che allora il progetto fosse un progetto sul ruolo dell'artista. E io, a distanza di un secolo, mi trovavo alla fine del secolo breve, per come la dice Hobsbawm, quindi alla fine dell'Occidente, e all'inizio di questa fase perturbante che è quella che noi viviamo e che non sappiamo bene che cosa sia. Io ho cercato i luoghi di questi piccoli dettagli delle grandi terre di Diffenbach e ho cercato di riprodurli. Sono tutte immagini notturne perché a me interessava questa idea di dipingere di notte di Diffenbach, per cui sono dei notturni sovraesposti, sono delle esposizioni anche di 40 minuti, 50 minuti, dove volutamente io ho fatto in modo che sulla pellicola piana, sulla lastra del banco ottico, nuvole e onde sparissero per via della lunga esposizione e che queste pietre così familiari tornassero a essere quello che io vedevo, l'emersione, una specie di brodo primordiale, violento, che portasse un momento di rottura. Come qualsiasi genesi, in mostra c'erano le mie riproduzioni di dettagli di Tredi Diffenbach e in più c'erano delle pagine strappate da libri di narrativa, filosofia, saggistica, dipinte di nero, dove io lasciavo fuori soltanto le frasi che avevano prodotto il processo che mi aveva portato a definire il progetto dentro questi termini. Questa è la prima pagina del romanzo Le correzioni di Jonathan Franzen. Questo è un famoso passaggio citato nell'Odissea. Questo è uno stabilimento balneare che si chiama Lo scoglio delle sirene e si chiama in questo modo perché è il luogo dove nell'Odissea si immagina che le sirene incantino Ulisse e le imbarcazioni. In basse e alta marea questa è una parte pericolosissima apparentemente di mare aperto ma dove in realtà affiorano scoglie quindi se vi immergete in questo posto è un cimitero di relitti, di brandelli di storia della navigazione naufragata. Mi serviva a vedere questi luoghi come le aveva viste Diffenberg quindi come un luogo primordiale per raccontare che in certi momenti la storia fa un salto in avanti e come sempre quando c'è un rito di passaggio importante lo fa con violenza. Ma non siamo riusciti a ritrovare questa grotta che potrebbe anche essere una grotta immaginata e allora siamo andati con degli speleologi per far vedere Capri per quello che è una pietra lavica quindi un luogo spinoso difficile. La storia ci sta guardando dritti in faccia e noi facciamo fatica o alle volte rifiutiamo di accettare questa importante fase di cambiamento che stiamo attraversando. Queste sono le famose carte di riso che si usano per assorbire l'umidità dalle tele nel laboratorio di restauro. A me interessava perché questi oggetti mi sembrano delle dimenticanze delle smemoratezze delle picnolessie della nostra storia è come se man mano andando avanti ne perdessimo brani di memoria. Questa è l'immagine più recente avevo voglia di rivedere questo spazio la tecnica è la stessa è un notturno sovraesposto mi interessava letteralmente scollare questo luogo duro e violento da questo paesaggio atemporale ageografico in moto come se fosse una sorta di asteroide. L'ultimo progetto che vi mostro è del 2015 una committenza che io profondamente deluso durante la biennale vengo come tantissimi altri artisti invitato a far parte di una collettiva curata da Daniela Ferretti Axel Verfort a Palazzo Fortuni a Venezia il tema della mostra era la meraviglia dell'armonia nella storia della natura e dell'arte mi interessava far parte della mostra e mi interessava dire il contrario di quello che la mostra diceva l'elemento strabiliante della nostra storia fosse l'incredibile eterna durevolezza del disequilibrio che cosa ci vuole a tenere in equilibrio un trilite molto più incredibile che riusciamo a far persistere per sempre qualcosa che in realtà non è in equilibrio che era esattamente il contrario della tesi in mostra c'era questo elemento che faceva un po' da camera di dissonanza rispetto ai progetti che potete immaginare andavano da Botticelli a Kapur e quindi una sorta di cronostoria del rapporto fra arte e armonia io da bambino con mio padre andavo spesso al museo archeologico di Napoli e in una sala la più bella sala del museo archeologico che è la sala della Meridiana si trova il gruppo scultorio dell'Atlante Farnese e mi aveva sempre spaventato questa statua questo enorme vecchio che da solo in modo del tutto disassato regge l'intera volta celeste l'universo sulla schiena temevo sempre che questa grande palla crollasse a terra perché era fuori dall'assa della scultura sembrava una grande ingiustizia la punizione di Giove che come sapete punisce Titano per le sue irrequietezze costringendolo per l'eternità a portare sulla schiena il peso dell'universo ho mescolato le parti di girato che io ho realizzato con una serie di frammenti perché in realtà io ho voluto usare questo film per raccontare un disequilibrio particolare e quello proprio della storia dell'Occidente prendendo tre momenti filmati della nostra storia i filmati in bianco e nero a 16 mm i primi della storia delle ritirate della prima guerra mondiale i filmati 8 mm a colori della felicità nella suburbia americana e infine la pubblicità in VHS dell'edonismo reganiano dell'America degli anni 80 e ho usato questi tre film come un boomerang della rappresentazione dell'Occidente c'è un bellissimo testo di Marrazi che dice gli Stati Uniti sono stati l'ultimo impero dell'Occidente il primo impero della storia deterritorializzato il secolo breve ci ha dominati tutti occupandoci culturalmente su tutti il cinema il video il musical qualsiasi cosa sono stati l'arma di distrazione di massa di cui siamo stati figli felici il film è fatto per un buon 70% di materiale di archivio che nella mia pratica cinematografica degli ultimi 6-7 anni in particolare quella dedicata al declino dell'Occidente è diventata una sorta di ricorrenza ho addirittura prodotto un'installazione su 5 schermi per il castello di Rivoli dal titolo American Recordings fatta unicamente di materiale di archivio sto terminando il montaggio di un nuovo film che insieme ad Atlante American Recordings costituiscono una trilogia su cosa sta accadendo a noi nell'Occidente il film si intitola Rivoluzione che è anche una speranza c'è un libretto meraviglioso di Jean Baudrillard che si chiama America che racconta come la storia del secolo breve dell'Occidente sia stata in parte messa in scena cinematograficamente addirittura Baudrillard scrive il libretto guardando l'America da un finestrino di una limousine mentre gli scorre il grande paesaggio americano con la sua grande arcaicità e potere di trasformazione le quattro donne che vedete filmate sono le donne che il primo grande storico di Hollywood che si chiama Kenneth Anger aveva definito i quattro canoni della bellezza sono la trasposizione in era moderna dei canoni prassiteliani un'altra bellissima che dice Malin Dietrich è lo slogan di un videogioco della Playstation distopico futuristico su una Detroit dove avvengono scioperi e scontri fra polizia e operai il claim era it is not the end of the world but you can see it from here è un monito interessantissimo secondo un'altra delle mie ossessioni e questa incapacità nostra di vedere bene vedere con chiarezza più in termini come dire etici che come dire fotografici mi sembrava una frase bellissima l'errore dell'artista è quello di creare delle destabilizzazioni di mettervi davanti a delle scene pericolose e scappare via non abbiamo nessun tentativo di risolvere nulla trasferire al pubblico il delirio del caos disorganizzato con un apparente sistema formale a volte le fotografie nel mio caso sono formalmente elementari ma sotto c'è una tensione di magma di condizioni di fatto inesperibili tutti noi che amiamo l'arte amiamo la letteratura amiamo la filosofia la saggistica continuiamo a immergerci in questo tentativo di procurarci degli strumenti per comprendere il reale mentre obiettivamente oltre questa parete di vetro c'è un paesaggio che collassa moralmente e questo collasso morale non è la conseguenza di una cattiveria è il fatto che ci siamo abbandonati a questo desiderio di vacuità di semplicità della lettura dei contesti il mio ruolo è creare un incidente Justin Batchelor diceva osservare invece di riconoscere comporta dolore quindi il mio desiderio di far sbattere il pubblico far incidentare due eventi questa possibilità meravigliosa mesmerica di far urtare tutto lo scibile che ci arricchisce e ci rende anche più fragili contro questa meravigliosa ottusità della semplicità del reale che in qualche modo ci viene imposta o ci imponiamo nella nostra storia recente dell'Occidente questi film sono detriti di una coscienza non dobbiamo provare sensi di colpa dobbiamo prendere atto e capire che in tutto questo ci sono dei fallimenti ma anche dei momenti epici favolosi straordinari di cui siamo stati protagonisti non è detto che non c'è una via di uscita è una questione di postura in un bellissimo libro intervista fatto a Joseph Beuys a un certo punto un critico tedesco chiede a Beuys chi è l'artista e lui risponde io la mattina mi alzo mi metto in piedi e inizio a camminare dritto se in qualche modo riesci a camminare dritto con cognizione da qualche parte arrivi se no finiamo come nel finale di Underground di Custurizza su una zattera ballando e cantando e se proprio ce ne dobbiamo andare meglio così grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti